Bella a tutti ragazzi qua Orgasmic e sono qui a portarvi uno scottantissimo episodio dei Potential Transfer di FIFA 16 con tre giocatori importanti che andremo subito a vedere comunque come sempre io vi invito a lasciare un bel like 400 like per questo video ci stanno a bestia ma proprio a bestia di brutto quindi lasciate un pollice in su ma soprattutto commentatemi scrivendo cosa ne pensate dei giocatori di cui parliamo oggi e consigliatemi altre trattative di mercato da trattare nei prossimi episodi comunque non perdiamoci in chiacchiere perché ci sono tante cose da dire andiamo col primo giocatore cioè Kovacic ormai è da ieri che la voce è quella si parla di un trasferimento quasi ufficiale di Kovacic al Real Madrid tra l'altro un'operazione da circa 30-35 milioni di euro si era inserito il Liverpool nella corsa a Kovacic si era parlato anche di un'ipotesi Milan ma vabbè quella è la proprio più utopistica appunto Real Madrid che è quasi alla firma con Kovacic manca solo la firma con Kovacic per un'operazione importantissima di cui vorrei aprire una parentesi e parlare un po' di questo caso Kovacic perché molti tifosi interisti si sono lamentati e molto di questa cessione secondo me le strade sono due la prima è che Kovacic faccia la fine di Coutinho venduto e poi esploso alla squadra in cui è andato quindi valore che si è alzato del giocatore e di conseguenza incazzamento totale da parte dei tifosi dell'Inter però c'è da dire una piccola cosa che Coutinho se non sbaglio è stato venduto a 10 milioni al Liverpool mentre Kovacic ha circa 35 quindi il prezzo è comunque molto elevato la seconda cosa è che Kovacic non riesca ad esplodere neanche nel Real Madrid visto che un giocatore per esplodere deve giocare con continuità e quindi nel Real Madrid non è sempre certa una continuità visto i giocatori che comunque ha davanti e quindi l'Inter potrebbe aver fatto un affare ora da parte dei tifosi interisti è una perdita grave perché comunque Kovacic è l'unico giocatore nel centrocampo dell'Inter se non consideriamo Hernanes che io non lo considererei affatto in grado di dar qualità al centrocampo e soprattutto il giocatore che prende palla e salta agli avversari quindi crea la superiorità numerica perché in questo è molto bravo c'è anche da dire che è un giocatore di cui finora non si è mai trovato un ruolo preciso ha giocato davanti alla difesa ha giocato da mezzala ha giocato da trequartista da esterno ma non ha mai trovato la sua posizione fissa quella in cui rende meglio e quindi questo era un problema e un altro problema era la sua discontinuità era un giocatore che ti faceva una partita strepitosa con assist, gol e tante altre belle cose e poi ti alternava questa bella partita ad altre partite negativissime dove praticamente neanche c'era quindi io dico così per concludere 35 milioni questo affare lo valuteremo secondo me tra qualche mese quando vedremo come giocherà e se giocherà al Real Madrid e quindi potremmo essere in grado di dare un giudizio in più su questo giocatore adesso secondo me non si può dire se è stata una bella o una cattiva operazione di mercato comunque l'Inter ci guadagna 35 milioni che serviranno per aggiustare definitivamente la squadra si vedrà nei prossimi giorni di mercato cosa succederà c'è da dire che manca della qualità nel centrocampo dell'Inter e questo potrebbe essere un problema per il prossimo campionato quello incombente comunque andiamo con il secondo giocatore se no veramente il video dura tantissimo fatemi sapere comunque nei commenti cosa ne pensate a riguardo parliamo di Soriano che ormai è dall'inizio tra l'altro del mercato che si sta parlando di un suo possibile uprodo al Milan come vedete ho fatto un upgrade a oro tra l'altro sarebbe un giocatore non raro secondo me da oro 75 però non avevo la carta non rara quindi non potevo farlo ancora si parla di un suo possibile uprodo al Milan un Soriano che sarebbe il trequartista barra centrocampista che il Milan cercherebbe in realtà io non so quanto Soriano potrebbe aggiustare la cuna a centrocampo del Milan in quanto non lo considero un giocatore per dirla tutta come Covacic in grado di farti fare il salto di qualità per cui non mi sembra una grande operazione di mercato un giocatore che ha una clausola recissoria se non sbaglio di 10 milioni non è altissima comunque ha fatto un buon campionato l'anno scorso questo ne deriva appunto la sua versione team of the season e un suo possibile upgrade a oro però io penso che non sia questo il giocatore di cui il Milan ha bisogno dovrebbe secondo me fiondarsi su qualche altro nome anche se a dire la verità in questo mercato i trequartisti o centrocampisti di qualità scarseggiano se non li paghi una barca di soldi quindi anche qui mi affido ai vostri commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa operazione perché a me a dire la verità non convince tantissimo ma andiamo sull'ultimo giocatore di oggi è un giocatore che ha una conoscenza del calcio italiano cioè Edison Cavani che tra l'altro in queste ultime ore trapela questa notizia di un suo possibile interessamento dell'Arsenal Arsenal che si è fiondata su Cavani dopo aver sondato per qualche giorno Benzema ma la richiesta del Real Madrid è veramente alta circa 65 milioni quindi una cifra improponibile per Cavani invece il Paris Saint Germain dovrebbe chiedere circa 50 milioni una cifra comunque molto alta però considerato che l'Arsenal è una big di Premier League può sostenere questa spesa importantissima Arsenal che nel caso riuscisse ad acquistare Cavani io non penso comunque perché è un'operazione davvero difficile poi non penso che il Paris Saint Germain si libererà così facilmente di Cavani visto che comunque la Casette ha rinnovato con Lione quindi non potrebbe neanche prendere il suo obiettivo numero uno cioè la Casette se l'Arsenal dovesse prendere Cavani farebbe un colpo assurdo perché comunque ha disputato un'ottima stagione l'anno scorso e da qui ne deriva il più uno in overall e anche nelle statistiche diverse statistiche ma soprattutto si prenderebbe un vero e proprio centravanti cosa che è mancata all'Arsenal in questi anni a Giroud ma Giroud è un buon attaccante ma non è l'attaccante di peso che ti fa fare il salto di qualità in attacco e l'Arsenal con Cavani con Sanchez con Casorla con Ozil farebbe davvero un'ottima squadra ovviamente non considerando anche gli altri giocatori quali Wolcott e Chamberlain quindi niente il Paris Saint Germain si priverebbe di una parte che dovrebbe rimanere Ibrahimovic quindi la punta in caso ci sarebbe anche se non ci sarebbe un vero e proprio sostituto però c'è da dire che Cavani da quando è al Paris Saint Germain è sempre stato un po' trascurato diciamo che quando c'è Ibra gli attaccanti fanno sempre un po' fatica e infatti molte volte era stato messo come ala a giocare da ala anche se ha giocato comunque abbastanza bene quest'anno ma comunque non ha giocato nel suo ruolo comunque si vedrà ragazzi si vedrà in queste ore in questi giorni come si concluderà poi il mercato visto che mancano comunque due settimane circa alla fine di questo calciomercato comunque raga il video finisce qui spero vi sia piaciuto come sempre vi invito a lasciare un bel like come ho detto prima 400 mi piace ci sta una bestia per questo video fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste tre operazioni di mercato e soprattutto consigliatemi altri giocatori da trattare negli episodi successivi come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale pagina Facebook Twitter Instagram tutti i link li trovate in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga Grazie a tutti